a fine partita del capitano leonardo de angeli su super prestazione per te sei riuscito a trovare anche il gol che sembrava definitivo del 2-0 poi gli avversari erano un po riaperta e poi alla fine è arrivata una buona vittoria allo scadere che cosa come l'hai visto come l'ha vissuto questo match partita sotto tutti i punti di vista fatta benissimo da parte di tutti abbiamo messo voglia ma grandissima partita da parte di tutti e niente questo siete riusciti sicuramente a portare un buon pressing continuo costante riempite dagli avversari di giocare con tranquillità e l'avete indirizzato subito bene il primo tempo dopo tre minuti si è andato in vantaggio e poi avete rischiato però alla fine non ci avete pensato però al gol del pareggio abbiamo rischiato però proprio il pareggio a sconfitta mai messa in dubbio noi siamo partiti siamo entrati in campo con la voglia di portarsi a casa i tre punti e di fare una grandissima prestazione così è stato così è stato quindi tre punti guadagnati e salita a 10 superati anche l'academy di oggi quindi complimenti ci vediamo alla prossima è stato un piacere commentare con voi la partita grazie